E' tornato a suonare nella tarda mattinata di oggi attorno alle 12.30 l'allarme del sistema antincendio dell'archivio di Stato di Arezzo. La sirena ha suonato incessantemente per alcune ore all'interno dello stesso edificio in cui lo scorso 20 settembre persero la vita due impiegati Piero Brugni e Filippo Bagni uccisi da una fuoriuscita di gas argon dall'impianto antincendio. Anche in questo caso si sarebbe trattato di un falso allarme. Niente, niente gas. Di un falso allarme. Partito allarme. Comunque non c'è neanche un incendio. No, no. In piazza del commissario questa mattina sono accorsi i vigili del fuoco che hanno agito con la massima prudenza. I pompieri hanno prima effettuato alcuni saggi esterni per verificare se vi fossero fuoriuscite di gas e poi, muniti di tute speciali e respiratori, hanno ispezionato tutti gli ambienti, compresa la stanza nella quale si trova la centralina e dove 17 giorni fa persero la vita i due impiegati. È stato così constatato che non si è verificato né un principio di incendio né fuoriuscite di gas. C'è stato un allarme, c'è stato un risultato di fare dei controlli, delle verifiche, niente di particolare, tutto a posto. Insomma si può stare tranquilli? Sì, sì, certo. I controlli sono andati avanti per ore sino al cessato allarme. Restano adesso da comprendere le ragioni che hanno fatto scattare questa mattina nuovamente l'allarme. Dunque ancora domande in cerca di risposte, mentre la procura di Arezzo sta proseguendo le indagini per chiarire le cause del drammatico incidente dello scorso 20 settembre.